A questo punto passo la parola al dottor Riccardo Picciafuoco, Forum Salviamo il Paesaggio. Consumo di suolo e valutazione anche dell'impatto paesaggistico. Ci può dire qualcosa sotto questo profilo? Cosa ne pensate? Allora, intanto mi unisco all'appello che ha fatto appena adesso Edoardo Zanchini, con i quali fra l'altro siamo da tanti anni sulla stessa parte della trincea. Quindi evidentemente le questioni che lui poneva come salviamo il paesaggio, dall'altra parte Lega Ambiente è uno dei fondatori di questo forum, di questa rete di movimenti. Ormai siamo arrivati a quasi mille comitati e associazioni a livello nazionale, quindi mi unisco sicuramente al suo appello. Io, prima di rispondere, se mi permette, alla sua domanda sul rapporto consumo di suolo e paesaggio, perché giustamente posta un paesaggista quale io sono, architetto urbanista e paesaggista, volevo però porre l'accento, e questo lo faccio un po' lanciando una provocazione qui, mi dispiace che l'assessore sia andata via, nel senso che se noi continuiamo a fare l'errore di non capire che il problema che stiamo affrontando non è un problema settoriale, cioè che si può tagliare a fettine e guardare, quindi ci stiamo specializzando sulla questione suolo e quindi dobbiamo avere uno strumento sofisticato che sappia valutare in maniera perfetta cosa significa consumare un metro quadro di suolo. Ecco, se ci infiliamo in questo tunnel, francamente credo che non ne usciamo. Lo dico tanto da pianificatore, come dicevo, ma anche da cittadino italiano, nel senso che non credo che in Italia possiamo ancora andare avanti ragionando per emergenze. dobbiamo cominciare a ragionare a livello sistemico e mi spiego cosa voglio dire. Cioè voglio dire che dobbiamo cominciare a individuare prioritariamente quali sono gli attori che sono i principali responsabili delle trasformazioni di cui stiamo appunto parlando e che ahimè continuano, come abbiamo visto, anche se con una velocità rallentata. Quali poi sono le azioni che possono essere più incisive rispetto a questa problematica e quindi per invertire quelle che sono le tendenze in atto. Terzo punto, quali sono gli strumenti più adeguati per poter appunto intervenire per invertire questo trend. Quindi, cosa voglio dire? Se non abbiamo una visione a 360 gradi, e qui rappresento io stavolta non i tecnici, ma rappresento la società civile attiva, la cosiddetta appunto cittadinanza attiva, che per fortuna ha capito quale sia la gravità delle cose di cui stiamo parlando, dicevo, se non coinvolgiamo i cittadini in prima persona e non lo possiamo fare qui in questo contesto dove si sta parlando in maniera troppo specifica, non perché non lo si debba fare, non mi capite male, ma lo si deve fare, ma perché siamo pochi dentro questa sala, perché probabilmente appunto oggi parliamo tra tecnici. Allora invece bisogna capillarmente andare dai cittadini, cosa che noi stiamo cercando di fare come associazioni dappertutto, io lo faccio ovviamente prevalentemente nelle Marche, dove siamo riusciti a portare in Consiglio regionale una proposta di legge e di iniziativa popolare con 9.000 firme, quando ne servivano 5.000 minimo e in quel momento c'è stata una consapevolezza dei cittadini, che quando gli dicevamo che cosa significava consumare suolo per cementificare, fare ancora strade, capivano perché ai tavolini gli spiegavamo questa cosa e avrebbero messo 10 firme per uno su questa cosa, quando finalmente riuscivano a capire la gravità di quello che stava accadendo. Allora voglio dire, bene, benissimo i convegni, benissimo gli strumenti, benissimo tutto questo, purché però, appunto, ripeto, guardiamo e affrontiamo il tema a 360 gradi. E dov'è, ahimè, il punto critico, il punto di caduta di tutto questo sistema che, ahimè, appunto non funziona? Io credo che sia la politica, io credo che sia la politica perché, ahimè, è incapace in questo momento ancora di capire che questa è la vera emergenza, la vera emergenza, perché non riguarda, guardate, solo il metro di suolo di cui si diceva prima, no, in profondità, ma riguarda la salute. Allora se noi non trasmettiamo che perdere suolo significa perdere salute, le persone, ahimè, non possono capire la gravità di questo tema. Ecco, questo è. Ma certo, vicino a questo, e rispondo a Flash alla sua domanda, vicino a questo c'è una perdita di paesaggio, e ve lo dice uno, guardate, che sta in una regione che ha un milione e cinquecento mila abitanti, cioè la metà esatta della capitale, tutta la regione, in cui gli stranieri arrivano da noi per la bellezza del paesaggio. Ma guardate che il 66% della costa marchigiana è cementificata, cioè di questo stiamo parlando. E se non c'era il parco del Conero, che è un promontorio, non so chi di voi lo conosce, che sono 6.000 ettari, che sono un'isola felice, il colle San Bartolo a nord, nel Pesarese, verso la Romagna, e le dodici foci dei fiumi, l'avevamo consumato tutto, sto litorale. E l'ISPRA ce l'ha detto benissimo nello studio del 2016, ci ha detto che nei primi 300 metri abbiamo consumato il 66% del suolo. E siamo la seconda regione, le virtuose marche, la seconda regione dopo la Liguria, ad aver consumato suolo litorano e costiero. Allora, dico, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? E sento dire questa mattina che ancora c'è un progetto, oltre a quello che diceva Edoardo, c'è un progetto di autostrada latina Roma, con una bretella che attraversa il parco storico dell'Appia. Ma di che stiamo parlando? Ci dobbiamo svegliare tutti quanti. E se tutti quanti i cittadini si svegliano, allora la politica vedrete che si dovrà svegliare. Allora, grazie mille. C'era il dottor Iaria che mi ha chiesto di poter replicare all'ultimo intervento. Prego. Potevo farlo anche alla fine, ma io volevo solo rivadire un concetto appena espresso che riguarda la politica. Allora, io forse l'ho detto male prima, ma ogni amministrazione ha delle possibilità di lavorare nel suo territorio con dei limiti. Come dicevo prima, noi nel Comune di Torino abbiamo fatto questo atto di revisione del piano regolatore generale, che sembra una cosa banale, ma dire che non faremo più costruire in area libera non è stata una cosa facile. Perché non so se siete a conoscenza della situazione economica degli enti locali e capite quanto è difficile dover anche rinunciare a tutta una serie di risorse finanziarie per soddisfare tutti i servizi che deve soddisfare un Comune. È vero, ogni tipo di amministrazione, il Comune può lavorare nel suo ambito, la città metropolitana nel suo, la regione nel suo e il Governo nella sua possibilità di fare leggi. E' chiaro che questa visione però è per forza spezzettata perché ci sono visioni politiche differenti all'interno delle varie gestioni politiche del territorio nazionale. Io volevo solo anche dire, per esempio, sul discorso della responsabilità politica, noi a Torino abbiamo fatto anche un altro tipo di atto che se l'avessimo fatto cercando di arrivare al consenso della popolazione non l'avremmo mai fatto. E questo per un politico è tipo una bestemmia, non arrivare al consenso. Abbiamo deciso di bloccare le auto per un periodo lunghissimo nell'arco invernale proprio per dare un segnale che questo problema dell'auto di isola in città, eccetera, provoca tutta una serie di problemi di salute ed è un modello che non può essere più portato avanti. Poi chiudo brevemente. Questi sono atti politici forti che io mi sento anche un po' di difendere, non voglio fare quello che difende la propria parte politica, però è stato un atto politico forte. Poi abbiamo fatto anche noi errori e se ne fanno costantemente quando si va a ministrare una città grandi, però questi atti politici forti danno un segnale molto preciso. E sappiate che il consenso elettorale si perde anche da persone che hanno votato per la parte politica che fa questo tipo di atto. Quindi ci vuole un certo coraggio per andare avanti di questo punto di vista. Grazie. Grazie mille. Sì, è vero, gli atti politici forti hanno un problema elettorale. Io in passato intervistai un assessore al traffico di Roma, il quale per telefono mi disse un assessore al traffico non può fare quello che vorrebbe fare perché se no smette di fare l'assessore al traffico alla successiva legislatura. Io sostengo che in alcune città d'Italia, in alcune situazioni in Italia non servono buoni amministratori, servono ottimi amministratori che abbiano la logica di Gorbaciov quando inaugurò la perestroica. Metteva in conto di finire come era finito per modernizzare il proprio paese, cioè di venire defenestrato anche abbastanza in maniera evidente. Se voi pensate, frequentate i blog dei cittadini romani, i cittadini romani si lamentano perché vengono fatte le piste ciclabili che impediscono il parcheggio in doppia fila e lo scrivono dentro i blog. E questa è una realtà abbastanza concreta.